no senza exager senza hobby qualcuno mi invita in squadra mi chiamo ok aggiungimi ottimo c'è un caccia che si segue forse non ha giunto 3 amici chi è non è in squadra roxan frank la moglie guida una caccia dei miei amici hai diviso in due parti in tante la stiamo per registrare senza l'interno oggi ha detto andiamo al monte l'ha detto Kena adesso R2 l'amici ho scelto il monte finisce la tua carriera oh 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 ti spara ah io non posso prenderli io non so prenderli io non so prenderli ma sono un caccia di carri via 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 troppo portetta sta ti pareva se non c'erano i cecchini oh cazzo no 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 si mette male si mette male, aiuto 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 morto merda serve un medico in squadra c'è già uno ma stiamo registrando? buongiorno allora oh vedo tutti quanti che bello ah andate ma c'è qualcuno qua dietro di me eh esattamente, io faccio l'assalto pesante dai cazzo io me ne torno in base perchè sono senza munizioni e ho mezza vita io mi metto un max, io con il jet, trekking, torno alla base, non c'è più munizioni prendo il regina oh l'altro torriamo la base padonna a me mi hanno cerchiato, sono un max, porca troia come si fa il potere? un attimo mi si è frizzato tutto ogni tanto capita? ogni tanto frizzati, nooo generatore merda occhio, occhio ai peccini è lentissimo il max oh i cali, i cali, i cali muoviti che ci sono dei cacchini eh, si è visto oh, vieni a scuola, sconchini oh, vieni a scuola, sconchini oh, vieni a scuola, vieni a scuola, vieni a scuola, vieni a scuola, vieni a scuola ho capito dell'aggiore Quentinolo dico aiuto 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 mi sto per il D 수 etio dico do 100 ho capito di 10 qui c'è una base aerea, ca weet no da s'illerato, è beleza piè, cazzo 600 carpimento ci sono, che ne lasciamolo bazar morcano, che mi sasscono allora stup Brief a sto punto qua uso il cecchino e li butto giù la cecchino da vicina, la piegata ragazzo sparadici si racconta ma dipende che cucina o c'è un'iniziale a creare non è semia automatico da vicino a scatata vabbè ottimo la sanda che non ha senso passare tv ci sciolte c'è una ma vedo che neanche dall'altra parte un buon passaggio io sto rientrando faccia con la squadra ingegnere no beccato il beccato il cecchino beccato il cecchino forse posso far rispondere la caffina qua c'è un medico che c'è una regina a terra e c'è uno stronzo che mi sta sparando contro neanche da oh mi sta imparando ma non è scatto ma occhio che c'è un nemico adesso eccolo oh headshot cazzo ma c'è qualcuno che deve fare ingegnere mi serve ora dove sei mi serve un ingegnere mi sto rischiando vengo mini troppo da voi con la torsuletta in teoria ma ma ehm con quanti hanno dodici orbici c'è chi oh ce ne sono due lì ah ce ne sono due lì ah ce ne sono due lì ah c'è un ingegnere ecco oh oh bella questa metà giunta bella l'acchiere oh onde occhio che sono due ma non mi resta accetto ok rega dovete correre riparli sotto la sotto la torre eh che fa ok 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 comunque non sono molto proprio per costruire le torrette bella vista cazzo caro 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 medio occhio caro armato via 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 caro medio ahhh sopra la montagna me con lo ster ciò cazzo abbiamo abbiamo no no merda ho ucciso due ero riuscito ad arrivare sopra la torre ho ucciso due c'è chi oh che cazzo ah vieni che stiamo conquistando quella roba lì ok c'è una donanza di fronche come c'è arrivato King la gioco oh cazzo ma rega ma è una cagata no ragazzi voi mi seguiste un attimo cioè rega se voi mi seguiste un attimo il posto di andare c'è di andare dritti sparati per così che vi ammazzano te lo sai basta basta fare il giro da dietro al posto di andare in guola la e poi io da giro gli arrivi sotto la base che c'è chi non posso oh no ma con i cacchini c'è non ci ho non ce l'ho prendo con quelli oh me hanno preso eccomi ragazzi scusate eccomi ragazzi scusate ero appena stuprati che entra volete si cazzo rega dovete dovete so affassare la montagna e andare sotto dalla tubatura torretta palazzo che non vi becca già più nessuno antiaereo c'è un medico vicino di voi che mi resta padosca sto arrivando con il pesante cos'è meno generatore di paranza ok a parte sto cararmato qui che non so da dove oddio ah abbiamo una base che sotto attacco è dall'altra qua ok 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 dai torniamo se qualcuno può avversarmi grazie numero? eh sono su una montagnola io non so neanche che numero sono sei è di davanti a te brava a coprirti da qua e vabbè rega c'è ciao se si sparano con la panteria con i cannoni io non lo so che cazzo dobbiamo fare stanno male stanno male stanno male cioè ti sciolgono c'è poco da fare ci vogliono quelli con lanciarazzi te lo hai lanciato appena muoio mi ammetto guarda appena muoio mi suicidio vieni qui stronzo ma non mi ricordo sono quello che vuole ah puttana cazzo è stato com'è possibile che vanno muoio abbiamo dei carri che arrivano qui e chi ne è non abbiamo uno spon di carri qua e non andare qui no in compenso ci sono dei cecchini nemici molti d'altro le torri dovrebbero essere scioltabili da lontano cioè non dovrebbero essere chiese basta basta buttarle raga potete rianimarmi che sono sulla montagnetta si occhio che ci sono due cecchini come trovo quella adesso che è eh sul medico pedro ma ho bisogno di assistenza medica no io ho diamo mi crepare cazzo dai sei senza vita occhio cago dietro ma dai no raga non ci credo sono stato ucciso da da un medico sono stato ucciso che vergogna no abbiamo un carri armato in cui no era dietro insomma qua oh no ok 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 ditemi dove sono le torrette i canzoni generatori stabilizzato pozzu cazzo cazzo avvista fatti tigene ahia c'è tutto lo scudo mi si è rigenerato c'è un cago sulla sinistra non so, io ho preso, faccio grazie noto ok, ho preso quasi andato generatore compromesso merda, non è andato andato, adesso è andato no la pezza è piena cazzo, ma cosi qua come si fa con l'antiera? cazzo c'è un medico qua vieni qui mi sa che l'ha distrutta anzi, l'ha distrutta una è un cecchino e non so da dove cazzo si salviamo sta cercando i camperoni ma non lo so, ma com'è bene, io oggi ne ho ucciso uno di qui ecco la merda, si ma si regalo, non c'è chi no c'è il mio cecchini che ti c'è sto tranquillo tranquillino, sto figlio di un cane proprio ho finito i muniti ragazzi oh, ok, ma non è animato ciao ciao, bye vi sto rushando ora c'è nell'arriera eh si in suo gioco se rush e l'ha finito eh si carica ti ho provato con le invisibilità mamma mi sto da finito ad approached si e anche con le invisibilità eh si fa fatica ma eh sono piazzati troppo bene eh ma devi fare un'infala qualche cecchino Ebbene, andiamo tutti assieme Ah, ecco dove cazzo sono? Ehi, c'è uno là sopra che stava dentro Sicilia, hanno fatto fuori cerchino che ci stavano prendendo loro Ottimo Ottimo Ma io direi che possiamo anche andare avanti a questo punto Vedo che ci sono delle nostre truppe dentro Avanziamo Morti Io vedo un ingegnere là, ma non Rega, c'è, me ne ho ucciso uno che vi stava arrivando da dietro Eh, c'è un altro rettativo che ci sta spavendo contro Occhio No, non andate di qua perché c'è una torretta Io sono qua Eh, ci sono dei... tre nemici, tre nemici sulla sinistra Adesso la destra è l'entrata dove c'è il quattro Go, baby Però stai alto Non ho identificato Generatore, un compromesso Cazzo, mi sono su, mi sono su, mi sono su, mi sono su Mi sono su, mi sono su, mi sono su Mi sono su, mi sono su, mi sono su Ci sta uno, c'era uno che era a camperare No, merda, tu sei buono Non so, oh, qua abbiamo red Eh, vabbè, mi ha ucciso Non metto Venite su da Kini, cazzo Eh, ce l'ha fatta nevivarmi Ah, abbiamo red qua C'è Kino, grazie Ah, ecco, l'ho beccato C'è Kino Eh, devi correre, venire su e... Gì, stai venendo nella parte giusta Kini Tanto sopra non c'è nessuno Cioè, dovete solo stare attenti ai cecchini Tanto abbassa un attimo il volume C'è un cecchino sulla torta davanti a Kali Ma che cazzo si sa? Eh, devi andare a... devi scendere Vai dall'altra parte qui del momento Sorpassa quel punto, ok, vai avanti Entra da... ecco, ah, ecco, ora vai, entra Sinistra, sinistra C'è un pelino No, 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 torna in... eh, da lì, bravo No, no, dove stai? Ok, da lì, ora vai verso la torre Ci sono delle cose che ti sparano in alto E lì sopra ci sono anch'io Bella, ti vedo Un cecchino del scherzo C'è un cecchino di merda T'hanno ucciso Io Io Ho tirato giù una torretta Due cecchini Ok Beh, basta, mi sono attorcato Mo' salgo lì Merda o c'è quel Tranquil in lì che io non lo so Che ha venduto pure l'anima Eh? Si Da dove cazzo si sale qua? Da dove cazzo si sale qua? Oh! Da cazzo! No! Ha bisogno di rianimazione Il cecchino... Il cecchino l'ho preso, eh? Prova cos'è la disperazione Eh vabbè, anche da dietro questo frog Questa donanza di froggy Ed non serve un medico molto in freddo perchè ho un'attacca di vita e niente scudo È troppo distante Eh, so anche per scudo Un po' lo scudo Lo scudo, ma non necessariamente tanto Muori, sai, figlio di un... Porca locca Ti vedo Minchia E io l'ho rischiato Non sopprimo il bersaglio, intanto Che in, lassai la strada Au, au, me l'ho preso Appena riusci, vieni su Appena riusci, vieni su Dai 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 Come si sale da comune mortali qua? Dalla sinistra, da quella Ah, perchè non ti trovavo senza giusto Cazzo, scusa, scusa il tuo bono Scusa Oh, Kali Che c'è la down Che c'è la down Che c'è la down Si deve entrare G ma io non lo so I tuoi compagni stanno a camperare Oh, eh, Kali Proprio stanno a camperare Tu gli spari Eh no, e non va bene Kali, te che c'è un cecchino Vieni in attrazione forte Eh, chi? Eh, dove sei? Qua, di fianco a down Ah, ok Tu, quella torre la davanti Ci sono dei cecchini che ho un po' di magone Ok, arrivo Anche io c'è un cecchino comunque Me lo so messo adesso Uggis Eh, io lo utilizzo soprattutto per queste conclusioni Rega, non ci andate più su quell'attore lì Però ogni due per tre posso diventare invisibile Non ci andate più su quell'attore lì Ci sono degli alleati idioti Oh, sì, eccolo Ci sono degli alleati idioti Mi si fa diventare invisibili Con F Con F Eh, se sei infiltrato però Sì, sì, sono invisibile, sono invisibile l'altro Ah, cazzo Altri cecchini Oh, merda Ho visto che t'hanno mitragliato Galaxy, Galaxy, Galaxy Gado di combattimento 4 Eeeh Ho vinto un adesivo Pozzo Ma allora sei figo Ottimo, mi ha riportato in vita Minchia Ok, sono scivolato e sono morto Ok, in dieci regioni Ah, sopra Se volessero il cazzo di Sanderer dentro Eh, sopra la collina No, sono morto, cazzo No, mi hanno fatto Ma in compresa ho ucciso quel bastardo là Eh, sì Se non giochiamo insieme La vedo dura Eh, infatti è l'ultima morire di riapparci Sto rimando Dove siete? Io sono con... Ah, chi è il numero 2? Aspettate Dimmi ma Ah, ok Adesso finisco Generatore riparato Io direi, troviamoci tutti allo spawn Eeeh Eeeh Vabbè, non lo scontro Scusa la Cain, Cain, Cain Ok, mi sono andato nella vita Mi sono andato nella vita Corretta, dimmi Cain Aiuto Pietro Quasi volte che muoio faccio il medico Eeeh Non si può lasciare Kain da solo Dai Sono già medico io Mh, ok Cazzo Vai, vai in giro con la pistolina Generatore Compromesso Mh, mi scemo Mh, mi scemo Eh, ma con i cecchini è pesa Ok, uno Uno lo uccido Merda Oh, con un altro cos'è Cacca pesanza Cazzo 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 E' l'altro medico Siamo i rifatti Dove sei? S Eh, sono lì per terra Tout MultBOX Mamma mia checulo Ero riuscito soltanto a togliermi lo scudo Ok, e da dietro mi fano il culo Guarda bene da dietro Ma secondo me se è una struttura t successiva Non cazzo che nessuno Eh, cazzo E' un погонь Sono gli sottop girl Pula sinistra Divieni mai Cazzo Ah Aspetta E r posteriorità stiamo spiegando solo a te che mi sembra la coca e fredd che era per aspettare non fare un'azionata se non è un'azionata a a a ciao ciao ok ok dai dio ok senti aspetto un attimo cerchiamo oppure qualcuno che non sia cecchino che mi serve nel combattimento ravvicinato eh se quando muoio aspetta vado a cambiare la classe eh un attimo no mi serve non mi serve un mini mi serve della gente per il combattimento ravvicinato ah cambio io la classe va bene Kane dove sei ok rega adesso dobbiamo andare ma se andiamo da qui sotto e andiamo sopra ok ecco deliceo ok aspettiamo un attimo rag eh eh ah non è finito andiamo da aspettare merda ok corre qui bravo ok ah dai ah aspetta stermi un attimo sulla collinetta che che classe mi metti mazzo merda max no è troppo lento ok ok sto arrivando da una figura spammata in piedi mi tagliate invece ok allora metto l'assalto pezzante aspetta che ho preso alla torre di qua eh ok sono in tre da sopra andiamo no che è andata da dove morto ok ok adesso mi serve come cannoniero merda ti vengo a pigliare giusto fuori dallo su terra bom stanno rivivando stanno rivivando Kane intendo allora ravvivati e vai e vai e vai cazzo 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 aia 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 no aia aspetta Kane no ti sei già responato Kane sono lì se c'è un medico mi lasciate sono su liberatore compromesso uuuh ho due tacche porca troia fin dov'è ah ok io sono sopra aspetta Kane basta cazzo no me no non l'ho visto vedi che mi smitraglia pure da gesù cristo crepa figlio di un cane crepa eh me io sono morto oh c'è un medico qui che possa curare no rega siete tutti morti ma cioè io allora faccio il ma chi è che è medico io king chi è che spawna in base un instante io 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 il congeniero ah quello che è il congeniero ok sono arrivati i nemici dobbiamo tenere la posizione qui mi sale su un uuuh fuori dalle case ma chi è che non viene? chi è quello che mi chiamava per... uuh salgo io dai mi sono indietro oh un attimo un attimo aspetta aspetta che ho arrivato anch'io un attimo che mi serve eh merda vado il secondo a cambiare classico su quei geniero geniero dai nessuno ce la fa venire lì sopra intendi sulla torre? eh no no adesso arrivo posso buttarli giù col cerchio sono dietro sono dietro tipo la bella bella grande chiamo chiamo no intanto riparatemi la camioniera intanto no c'è dai regalotti che non mi fa respawnare ehm io soppero stando bersagliando la tua camioniera aspetta prova a far review e poi generatore ok riprova io vedo la vita che ci sta farsi riparatemi eh c'è un rio che sta smitragliando più che ora ehm c'era qualcuno vabbè non vengo a fai di farvi più le faccio respawn e ovviamente non via respawn beh sembra giusto vabbè tanto che merda ma ah no alcun'altra camioniera lorino generatore stabilizzato ok ehm andiamo via da qua io vi so c'è un po' di protezione qua con la con la torretta sono lì sull'altra torretta sull'altra torretta quella è quella dietro no con la grassa ah no sono sulle grassa ok ecco sono su quella grassa dobbiamo prendere prima non preoccupare le torre non via speranza